La prima edizione del TG6 La prima edizione del TG6 Il parco mezzi si arricchisce, tre nuovi elicotteri si aggiungono agli aeroplani a disposizione diventando così uno strumento fondamentale per l'intervento capillare sul territorio. È un grande traguardo per la rete di emergenza urgenza della nostra regione e a favore dei cittadini abruzzesi. Noi abbiamo fortemente investito in questo anno e mezzo di giunta regionale e di governo regionale sulla rete di emergenza urgenza. Ha aumentato le postazioni di 118, le medicalizzate, istituita e bandita la gara per quanto riguarda la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici, ancora la STEN e la STAM per quanto riguarda il percorso neonatale assistito e materno assistito. Ed oggi una collaborazione proficua con le autorità militari che mettono a disposizione la loro professionalità, le loro competenze, i loro mezzi per coprire un pezzo dell'assistenza più critica del cosiddetto elisoccorso. Tre nuovi equipaggi che secondo le previsioni saranno operativi entro l'estate. Immediatezza di intervento e la capacità di operare anche di notte. L'arrivo degli elicotteri cambia completamente le possibilità di intervento su tutto il territorio. La necessità parte dal fatto che ci sono appunto per riduzione di spending review da altre parti, la riduzione di disponibilità di mezzi ad ala rotante, ci ha costretti ad aprire una sezione. Avremo tre elicotteri che è il numero sufficiente per poter avere in un certo periodo dell'anno la disponibilità di avere un elicottero sempre pronto ogni giorno. Maggiori capacità di movimento che permettono agli elicotteri di raggiungere le aree più insidiose e difficili nei casi di emergenza. A potenziare il servizio arriva anche la sottoscrizione di un accordo con il 118. La presenza dell'elicottero ci dà la possibilità di collaborare con enti come il 118 per prestare soccorso, intervenire nel caso sia necessario recuperare o trasportare un ferito e non lo facciamo in concorrenza con il 118 servizio elicotteri ma lo facciamo in alternativa. Restiamo ancora a parlare di sanità però ci occupiamo di quella teramana. Nei giorni scorsi i sindacati hanno sollevato una polemica rispetto alla mancanza di organico all'interno degli ospedali della provincia teramana. Oggi è arrivata la risposta del manager della ASL Fagnano che ha detto dobbiamo rispettare la legge. Ascoltiamolo. Questo è un argomento già introdotto peraltro dai sindacati. Io ricordo che da molto tempo noi denunciamo la carenza di organico dell'ospedale di Teramo e della provincia di Teramo. Sappiamo che è entrata in vigore una normativa a livello comunitario che è stata recepita in Italia con grande ritardo ma è entrata in vigore adesso a novembre che impone una tipologia particolare di turni di lavoro per il personale sanitario. Allora se noi dovessimo applicare questa normativa nell'ASL di Teramo all'ASL di Teramo mancherebbero circa 800 persone. Che dobbiamo fare? Rispettare la legge o violarla? Io credo che per rispettare la legge purtroppo bisogna dare una riorganizzazione. Questa riorganizzazione è in parte in atto però sicuramente non sarà una riorganizzazione irridevante o per così dire non dolorosa. Certamente bisognerà prendere delle scelte, peraltro obbligatorie perché le regioni sono tenute a inviare al governo un piano di fabbricazione del personale entro il 29 febbraio. In questo momento stiamo facendo i calcoli, cioè quali sono le unità operative che non riusciremo a mantenere col personale oggi in servizio. Stiamo facendo i calcoli e la prossima settimana dobbiamo inviarli alla regione, cioè i calcoli delle persone che possono garantire il rispetto dei turni di lavoro imposti dalla normativa comunitaria. Andiamo avanti adesso la pagina della cronaca con il bilancio dell'attività di polizia per il 2015 da parte della questura dell'Aquila. I cittadini dicono i sondaggi d'opinione anche in provincia dell'Aquila non si sentono sicuri, si dicono allarmati dai reati predatori, ovvero dei furti in casa e dalle rapine. Ma i dati forniti oggi dal questore dell'Aquila, Alfonso Terribile, nella conferenza stampa che ha fatto il punto sull'attività svolta dalla polizia nel 2015, dimostrano invece che questi reati sono in forte flessione. I furti sono passati da 4.196 del 2013 ai 3.281 del 2015, da 1.317 a 1.168 solo nel capoluogo l'Aquila. Calono anche le rapine dalle 71 del 2013 alle 49 del 2015. Di conseguenza sono diminuiti anche le denunce e gli arresti, 81 nel 2015, 142 nel 2013. Il merito, sottolinea Terribile, è anche della prevenzione del maggiore e mirato controllo sul territorio. E anche qui vengono a supporto i numeri, le persone controllate nel 2013 sono state 17.146 nel 2015, 24.300 e aumentano sensibilmente anche i controlli autostradali. Abbiamo registrato una diminuzione dei reati in generale, quindi complessivamente c'è stata una riduzione dei reati di natura predatoria rispetto al 2014. Un'attività che è di contrasto ai reati che hanno dato più fastidio alla popolazione, quindi i reati di natura predatoria, ma anche tutto quello che riguarda lo stalking e i reati di natura sessuale. Io voglio anche sottolineare soprattutto l'attività svolta così al servizio del cittadino, che è un'attività che rimane un pochettino in silenzio. Mi riferisco alle misure di prevenzione che vengono attuate dalla divisione anticrimine e all'attività della polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione. C'è poi, a proposito di predatori senza scrupoli e dei soliti furbetti, l'attività intensa della polizia sul fronte della ricostruzione post-sismica, nel cantiere più grande d'Europa, dove è cosa scontata che la malavita organizzata fa di tutto per entrare o di rimanerci. Ci sono inchieste in corso, si limita a rivelare il questore. Per quanto riguarda l'attività di contrasto a quelle infiltrazioni della criminalità mafiosa, la guardia è sempre alta e le indagini, ci sono indagini in corso, e quindi che sono coordinate dall'autorità giudiziaria, più di questo non vi posso dire. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di scuola e torniamo a Pescara per l'inaugurazione dei nuovi laboratori ristrutturati all'alberghiero De Cecco di Via Tirino. Alla inaugurazione rappresenta il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, assieme al sottosegretario Faraone. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Lorenzetti. Inaugurati questa mattina nella storica sede di Via Tirino i nuovi laboratori cucina dell'istituto alberghiero De Cecco di Pescara. Per l'occasione sono intervenuti fra gli altri il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, il presidente della regione Luciano D'Alfonso ed il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco. I graditi ospiti sono stati ricevuti dal dirigente scolastico Alessandra Di Pietro, che ha offerto una colazione presso la sala del De Cecco, colazione preparata proprio dagli studenti nei nuovi laboratori inaugurati questa mattina. La nostra presenza è una presenza che vuole anche marcare un impegno da parte del governo nazionale per l'edilizia scolastica. Non può accadere che chi va a scuola per studiare, per apprendere, per costruire socializzazione, deve rischiare la vita come è accaduto qui, come accade purtroppo troppe volte in questo paese. Noi stiamo investendo tantissimo in edilizia scolastica, quasi 4 miliardi di euro, un investimento mai visto. Stiamo facendo rapidamente anche rispetto ai lavori che si devono realizzare grazie alle regioni. L'Abruzzo è una delle regioni capofile, grazie ai comuni. Noi sappiamo che dalla scuola ci viene una popolazione straordinariamente interessata al futuro, qual è quella degli studenti che Cuba pesa 180 mila persone. Dobbiamo allora rendere sicuri gli ambienti di frequentazione, di lavoro e di educazione e formazione, che sono appunto gli spazi dell'edilizia scolastica e dell'architettura scolastica, come dice l'onorevole Faraone. E poi dobbiamo legare di più il mondo dell'impresa al mondo dell'educazione e della formazione, facendo in modo che per tutti ci siano occasioni di alternanza scuola-lavoro. Professoressa Di Pietro, i nuovi laboratori dell'alberghiero di Pescara oggi sono realtà? Sono dei laboratori moderni, sono dei laboratori funzionali a pieno regime al 100%. Sono tre laboratori di cucina, un laboratorio virtuale, una cucina a convegno, tre sale bar. La provincia ha destinato una somma di circa 80 mila euro per questa riqualificazione globale dei nostri laboratori, che sono il punto di forza del nostro istituto. Sono cioè gli strumenti che ci permettono di fornire ai nostri giovani una formazione veramente di eccellenza, di alta qualità. E' ovvio che noi dobbiamo fare ancora altro, cioè rimettere a disposizione gli spazi che sono stati evacuati dopo il crollo dell'anno scorso e questo lo stiamo per fare con la cantierizzazione delle opere. Io sono fiducioso, abbiamo una preside molto convinta del lavoro che stiamo facendo in sinergia e sicuramente daremo le risposte che tutti si aspettano. Approvata oggi all'interno della quinta commissione del Consiglio regionale, una risoluzione che intende impedire la teoria del gender venga insegnata all'interno delle scuole abruzzesi. No all'insegnamento della teoria gender nelle scuole abruzzesi. Lo dice una risoluzione con primo firmatario Paolo Gatti di Forza Italia, approvata a larghissima maggioranza oggi in quinta commissione regionale. Unico voto contrario è quello del Movimento 5 Stelle. La risoluzione impegna il Presidente della Regione a sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per sancire questo divieto. Termine controverso, quello di teoria gender, che secondo una delle definizioni ha come nucleo fondante la non esistenza di una differenza biologica tra uomini e donne, determinata da fattori scritti nel corpo, ma è frutto di una scelta, di un fattore culturale. Per il mondo cattolico, un'aperta propaganda a favore dell'omosessualità. Nessun intento discriminatorio nei confronti degli omosessuali, tiene però a precisare Gatti. Quello che si sottolinea è che tale teoria non ha senso farla diventare materia di studio a scuola, a tutela, aggiunge, della famiglia naturale e della serenità dei nostri ragazzi. Credo che sia una risoluzione corretta, con la quale impegniamo il Governo regionale a stipulare un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e definire il fatto che l'insegnamento delle teorie gender nelle scuole abruzzesi non sia un bisogno educativo. Noi siamo per la libertà educativa, siamo per il rispetto di tutti, però non è un bisogno educativo andare dai bambini di 5, 6, 8, 10 anni a raccontare le teorie gender. Noi riteniamo che i ragazzi debbano crescere tranquilli, sereni, con l'educazione della loro famiglia, della scuola. Poi quando saranno grandi faranno le loro valutazioni nel rispetto di tutti. La discriminazione a leggere il testo della risoluzione c'è, come ribatte Gianluca Ranieri del Movimento 5 Stelle, ma la contrarietà è solo sulla forma, non sulla sostanza, perché anche i grillini abruzzesi non ritengono opportuno che certi contenuti vengano insegnati a scuola. Noi siamo sostanzialmente concordi con quanto dice il dispositivo della risoluzione. Non siamo completamente d'accordo perché troviamo un po' forviante quelle che sono le premesse. Tra l'altro non li stiamo presentando in Parlamento, proprio in questo momento, una legge che prevede in sostanza la libertà di educazione nelle scuole e la possibilità per i bambini di essere formati sia all'affettività che alla sessualità. Tuttavia non votiamo questa risoluzione, sia perché non è questa la sede per determinare cosa si insegna o cosa non si insegna nelle scuole, che è una faccenda che attiene alla legislazione nazionale. E adesso parliamo del progetto del metanodotto Larino Chieti. Si terrà giovedì 28 gennaio alle 10 a Pescara, la delegazione Castellammare in Viale Bovio, l'inchiesta pubblica indetta dal Comitato di coordinamento regionale del via nel rispetto delle competenze fissate dal decreto legislativo 152 del 2006. si tratta di una delle prime esperienze in Italia in materia di consultazione pubblica per la valutazione di impatto ambientale. Verranno illustrati gli aspetti tecnici del progetto del metanodotto Larino Chieti. Al confronto pubblico saranno presenti il Presidente del Comitato via e Direttore generale della Regione Cristina Gerardis, il responsabile del servizio Domenico Longhi e tutti i componenti del Comitato via. Sono stati inoltre invitati a partecipare i sindaci dei comuni di Bucchianico, Casalbordino, Casalincontrada, Castelfrentano, Cepagatti, Chieti, Cupello, Filetto, Furci, Lanciano, Orsogna, Paglieta, Pianelle, Poggio Fiorito, Pollutri, Rosciano e Scerni. Andiamo avanti adesso perché dopo 13 giorni continua il presidio dei lavoratori precari della Attiva, la società che gestisce la pulizia e la nettezza urbana pescara sotto la sede di Palazzo di Città in Piazza Italia. Gli interinali attendono notizie soprattutto in merito alla lettera che il Comune deve spedire alla Corte dei Conti per sapere se è possibile regolarizzare le posizioni dei lavoratori, dandogli un contratto a tempo indeterminato, così come chiedono. Manolo Da Silva, 13 giorni di sit-in di protesta qui sotto il Comune di Pescara. Da quel sabato cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa? Nel frattempo non è cambiato niente, sono 13 giorni che siamo qui, siamo partiti col caldo, adesso ci ritroviamo alla ghiaccio, siamo sempre nella stessa situazione, ovvero stiamo ancora aspettando questa benedetta lettera dei Corte dei Conti che parta. Stamattina ci sono i legali dell'Attiva, dovrebbe partire stamattina, deve partire stamattina perché abbiamo scritto anche sullo stricione e adesso la pazienza è finita, adesso basta cordialità, basta scherze e basta battute. È il momento di stringere un attimo i tempi, perché sì è vero che siamo qui per scelta, ma anche un po' per forza se vogliamo. C'è stato chi ci ha portato a questa situazione, a questa baraccopola improvvisata. 13 giorni e da qualche notte state qui con temperature sotto zero, anche una grande sofferenza per voi e per le vostre famiglie. Sì, soprattutto per le nostre famiglie, anche se comunque sono abituate a stare la notte senza di noi, così come noi siamo abituati a lavorare al freddo, al gelo, sotto la pioggia. In previsione ci sarebbe un corteo, una manifestazione di protesta che state organizzando per i prossimi giorni? Sì, ne stiamo discutendo, stiamo preparando i dettagli, poi quando ci sarà l'ufficialità ve lo diremo. Cerchiamo di coinvolgere anche altre realtà, non solo noi. Cerchiamo di coinvolgere tutto il mondo del precariato in Abruzzo. Cambiamo argomento adesso al Comune di Teramo. È stato illustrato questa mattina il protocollo d'intesa per la diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti. Vediamo il servizio. Ci sono circa 150 persone che aspettano un rene in Abruzzo e quindi vuol dire che fanno dialisi. E fare dialisi significa stare tre giorni alla settimana per quattro ore legate ad una macchina. E tutto questo può essere risolto con il trapianto di rene. Altre persone invece sono affette da patologie cardiache o epatiche o addirittura respiratorie come il polmone. Molti bambini con la fibrosi cistica non arriveranno a un'età adolescenziale se non ricevono un polmone. E tutti questi persone, tutti questi pazienti hanno una speranza di vita, cioè di continuare a vivere solo se arriverà un organo che funzioni, quindi un trapianto. Con la giornata di oggi parte concretamente il progetto che è stato annunciato qualche mese fa ed è stato con un protocollo d'intesa sottoscritto da tutte le partiattrici che ci daranno una mano per raggiungere questo obiettivo. La donazione organi è importantissima, è un progetto di inconmensurabile valore e si potrà attuare tramite l'adesione che il cittadino vorrà dare nel momento del rinnovo della carta d'identità. Purché maggiorenne si viene all'anagrafe, il cittadino esprime la propria volontà di adesione oppure il diniego, potrà essere apposto sulla carta d'identità ma non visivamente. Verrà posto nella carta d'identità che comunque il comune ha come copia e verrà poi trasmesso al centro nazionale trapianti che racchiuderà queste persone che hanno aderito a questo progetto in un elenco e che sarà messo a disposizione di quanti ne avranno bisogno. Quindi il progetto scelto in comune significa dare la possibilità al cittadino di scegliere per se stesso la volontà ad adonare i propri organi per continuare a dare speranza a questi pazienti. E questo può essere fatto non al momento della morte che è un momento delicatissimo ma può essere fatto nel momento in cui noi siamo in grado di informarci, di studiare bene la situazione, di essere informati e dare un assenso importante. Cambiamo ancora una volta argomento. L'Aquila non ci sta e fa sentire la sua voce. Il decreto del ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini prevede infatti gli accorpamenti all'interno delle soprintendenze. A farne le spese potrebbe essere proprio la sede dell'Aquila che potrebbe essere accorpata a quella di Chieti. Daniela Rosone. Potrebbe esserci a breve un ennesimo scippo ai danni della città dell'Aquila. Potrebbe essere Chieti la sede abruzzese della nuova sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio che nascerà a stretto giro di Boa con un decreto che sarà firmato dal ministro Dario Franceschini con l'obiettivo di portare avanti la riforma del Mibact già iniziata da un po'. Potrebbe, ancora non è, ma è chiaro che le reazioni stanno iniziando a maturare. Il decreto in questione prevede infatti la fusione in un unico corpo delle sovrintendenze archeologiche di Belle Arti e Paesaggistiche. Dunque la sede aquilana dovrebbe accorparsi con l'archeologica di Chieti. L'allarme arriva dal Vezio Sfarra della Cisla che annuncia che nell'allegato al decreto c'è scritto che la nuova sede sarà Chieti mentre nel decreto stesso c'è scritto che l'Aquila è la città individuata come sede. Contraddizione che per evitare il peggio andrà chiarita ad ogni costo e prima possibile per non far avere all'Aquila altri scippi. All'Aquila resterebbe infatti solo la sovrintendenza unica archeologica artistica e paesaggistica per l'Aquila e per i comuni del cratere. Creata ad hoc questa struttura dal ministro Franceschini che però esaurirebbe le sue funzioni con la fine della ricostruzione dei cantieri nell'Aquilano. Le reazioni politiche ovviamente non si sono fatte attendere. I politici pronti, almeno a parole, a fare le barricate. Winter e Summer School, due nuovi servizi rivolti agli studenti e messi a disposizione dal Val Vibrata College di Corropoli nell'ambito del progetto accoglienza. Vediamo di cosa si tratta. Preside, parliamo della vostra scuola e anche di due particolari servizi che voi portate avanti. Si parla della Winter e della Summer School che sono rivolti ai ragazzi della terza media. Noi proponiamo ai ragazzi di terza media una formazione di matematica che deve essere propedeutica allo studio della matematica nel liceo e per latino. Latino perché? Perché è uno strumento importantissimo, oserei dire fondamentale, per una conoscenza reale della lingua italiana. Per i ragazzi della terza media il resto lo fa il fascino dell'aeronautica, del volo, della divisa. La vostra è una scuola, tra virgolette, particolare che offre una preparazione che nessuna scuola in Abruzzo è in grado di offrire. La nostra è una scuola che nasce con questa vocazione, quella di proporre un approfondimento nell'aeronautico, nel mondo aeronautico, a tutti i livelli. E questa caratterizzazione rimane ed è certamente un elemento di attrazione. Il resto, la serietà, l'attenzione alle regole, gli ottimi docenti, anche l'aggiornamento costante e continuo che noi facciamo dei nostri laboratori scientifici, i nostri laboratori di simulatore di volo e torre di controllo sono aggiornati anno per anno e sono all'avanguardia. Noi ci auguriamo che continui il nostro percorso in una condizione di serenità ed è giusto che questo sia garantito a tutti i livelli e noi pensiamo di poter svolgere, di continuare a svolgere quel servizio molto importante che finora, da ben dieci anni, la nostra scuola sta svolgendo. Abbiamo ancora una volta argomento e adesso andiamo a Francavilla dove è stata presentata la 61esima edizione del Carnevale d'Abruzzo. Tre giornate a tema, il 7, il 9 e il 13 febbraio con rispettivamente il Carnevale della Risata, ospite il comico Dado, quello dei bambini con lo spettacolo teatrale Il Mago di Oz interpretato dall'attrice dei Cesaroni Micolo Livieri e infine il Carnevale della Musica con la performance della Balkan Street Band. E poi i tradizionali carri allegorici, 5 capitanati dal re Patanello. Questo è il 61esimo Carnevale d'Abruzzo di Francavilla che avrà anche un prologo il 30 di gennaio con l'inaugurazione della mostra internazionale Bozzetti d'Arte per un carro allegorico aperta fino al 28 febbraio. E' praticamente la seconda edizione, l'anno scorso abbiamo ottenuto questa prima edizione, sono stati premiati 4 bozzetti che saranno rappresentati quest'anno su 4 carri allegorici. Abbiamo la cooperazione sicuramente di eccellenza del territorio, abbiamo un direttore artistico che si occupa, si è occupato e si sta occupando della realizzazione dei carri allegorici, toni miccoli. Abbiamo la collaborazione di un direttore che si occuperà delle coreografie, Merico Di Francesco e abbiamo quest'anno anche la collaborazione di un consulente che si occupa dello spettacolo di queste sfilate che è il maestro, il compositore Davide Cavuti. Possiamo dire che il Carnevale è proprio nel DNA di Francavilla, il Carnevale d'Abruzzo, siamo giunti alla 61esima edizione, è una di quelle manifestazioni che ci fanno conoscere molto oltre i confini regionali perché puntualmente quando c'è il Carnevale d'Abruzzo vengono turisti da tutte le parti d'Italia. I biglietti d'ingresso avranno il costo di 5 euro ed è previsto l'ingresso gratuito per under 13 disabili. Filastrocca scende e sale, Patanello scende giù al mare, cosa ci va a fare se non sa nuotare? Aspetta il Carnevale! E adesso passiamo alla pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Andiamo a vedere insieme gli arbitri della seconda giornata di ritorno. Per quanto riguarda le abruzzesi Ascoli-Lanciano sarà diretta sabato da Fabrizio Pasqua di Nocera Inferiore mentre domenica alle 17.30 Perugia-Pescara è stata affidata a Francesco Saia della sezione di Palermo. E adesso proprio del Pescara andiamo a parlare perché tra mercato e campionato in casa Biancazzurra si lavora senza sosta. La squadra infatti sta preparando la gara di Perugia. La società invece lavora al rafforzamento dell'organico. Fra i nomi nuovi per la difesa ci sono quelli del Genuano Marchese e dell'Atalantino Stendardo. La partita con Livorno è stata molto importante per come è arrivata questa vittoria. È stata una vittoria importante ed era importantissimo vincere perché dopo la sosta non si sa mai come si rientra, come sta l'avversario e come stiamo anche noi fisicamente. Dopo la sosta che è caricata un po' è difficile fare valutazioni. Siamo stati bravi che siamo riusciti a giocare bene, in più ottenere anche i tre punti, quindi abbiamo fatto il massimo. Avete guadagnato un'ulteriore posizione in classifica, c'è questo terzo posto. Anche alla luce di come è andato lo sconto diretto tra Crotone e Cagliari, che valutazioni state facendo o stai facendo? Prima della partita stavamo a otto punti dal Crotone e a nove dal Cagliari. Ora invece stiamo a sei dal Cagliari e sempre otto dal Crotone, quindi vuol dire che un passo in avanti l'abbiamo fatto. Noi dobbiamo, prima della partita di Livorno, il nostro obiettivo era riuscire a superare il Novara. Siamo riusciti a superarlo, ora l'obiettivo deve essere superarne una dalla davanti, però con la consapevolezza di rimanere con i piedi per terra, umili e con la cattiveria, visto che siamo lì, di fare qualcosa di importante. Perugia che viene da due sconfitte consecutive, zero col fatti, due sconfitte per 1-0, una squadra che è ripartita col piede sbagliato, ma forse proprio per questo è una gara ancora più difficile. Io ieri ho visto la partita di Perugia e ho visto che il Perugia non sta male, anzi, c'è dei giocatori che secondo me dovrebbero puntare minimo ai play-off, quindi dobbiamo prepararci mentalmente, che è una battaglia e che di sicuro non andiamo lì a trovare un Perugia che è messo male. I tifosi sono molto preoccupati perché ricordano di Biarnison lo scorso anno, è una domanda che ti stai sentendo porre forse in più di una circostanza, se il Pescara fa i play-off, Memushai non c'è perché risponderà alla convocazione della Nazionale. A questo proposito cosa ti senti di dire? Chiudiamo prima il discorso Serie A. Speriamo di non fare i play-off allora, di chiudere prima il discorso. No, purtroppo quelle sono cose maggiori che non dipendono da me, ma magari da chi ha fatto anche queste regole qua, che magari ci doveva pensare un po' prima, perché noi l'anno scorso ci siamo giocati un campionato per delle regole assurde. Abbiamo buttato via un campionato e la società ha buttato, penso, via anche dei soldi, perché un conto è andare in Serie A, un conto è rimanere in Serie B. Quindi purtroppo magari, secondo me, dovrebbero rivedere un po' le regole che hanno fatto. Restiamo alla Serie B, ma adesso andiamo in casa della Virtus Lanciano. I rossoneri stanno preparando la sfida con Lascoli a San Giovanni Tratino a causa della neve e del ghiaccio che hanno reso indisponibili i campi di allenamento di Lanciano. A tenere banco, però, è soprattutto l'addio del capitano Carlo Mammarella che è andato alla Provercelli. Presidente Valentina Maio, è il giorno del saluto del capitano Carlo Mammarella. Eh beh, purtroppo sì, come ho detto anche in conferenza, purtroppo tutte le cose belle, così come ci insegna la vita, finiscono. E quindi, sì, lui ha preso questa decisione, so che l'ha presa liberamente con il cuore e mettendo avanti la famiglia, e quindi davanti a questa cosa non si può assolutamente dire niente, è solo fargli un grosso in bocca al lupo. Presidente, la Virtus è partita bene nel 2016, a questo punto però mancano degli innesti, la società si sta muovendo sul mercato. Vabbè, sì, stiamo cercando di fare quello che possiamo fare, quello che è per le corde della Virtus Lanciano, ma questa è più una domanda tecnica che dovete rivolgere al nostro direttore, che lui è bravissimo in questo. Abbiamo sentito le tue ragioni in conferenza stampa, Carlo, che cosa ti senti di dire a quei sostenitori che nei momenti belli e soprattutto nei momenti brutti ti hanno sempre portato come un re qui a Lanciano? No, il dispiacere sicuramente è enorme. Penso, parto dai più piccolini, perché tutti quei bambini che magari per strada mi fermavano o addirittura quando portavo le mie bimbe a scuola, fino all'ultimo giorno che si sentivano voci di mercato mi chiedevano di restare qui a Lanciano, quindi la delusione da parte mia è più grande nei loro confronti. Per quanto riguarda un po' i tifosi veri e propri, quelli che vengono allo stadio, quelli che mi hanno comunque fatto sentire veramente importante come in nessun'altra parte posso solo ringraziarli e dirgli che avranno comunque sempre un tifoso lì in curva che è il sottoscritto. Come ho detto prima a qualcuno, sono arrivato che magari ero il terzino più sconosciuto d'Italia ed è anche grazie a loro e le loro canzoni che hanno portato in giro per tutta Italia che mi hanno portato ad essere ad oggi magari uno dei terzini dove molte squadre pensavano di avere. E andiamo avanti con il calcio, scendiamo in Lega Pro e c'è una notizia da poco ufficiale che arriva da Teramo. La Teramo Calcio ha comunicato il trasferimento del difensore Tommaso Dorazio a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno 2016 all'Unione Sportiva Pistoiese 1921. La notizia era nell'aria e da poco è arrivata l'ufficialità. Intanto i biancorossi si concentrano per quanto riguarda la gara di Pisa. Società che continua, come avete visto, a lavorare sul mercato sia con le uscite che con gli ingressi. Andiamo ad ascoltare invece adesso per Rotta. Noi non cambiano facile, abbiamo affrontato due attacchi comunque molto forti e siamo riusciti a non prendere gol. Quindi per noi è un punto di partenza da dover ricominciare. Penso a migliorare e spero di non essere un giocatore della Lega Pro per tutta la vita perché voglio fare il salto di qualità e perché credo di essere pronto per categorie superiori e credo di potermelo andarmela a giocare con squadre di Serie B diciamo. Però io resto qui con la testa e voglio migliorare il più possibile perché il mister mi può far migliorare ancora di più per essere ancora più pronto quando verrà il momento. Sicuramente per Rotta che rimane perché io non mi sento di andare via, mi sento un punto di forza per questa squadra. Non sono mai voluto andare via perché per me questo è come una famiglia. Ho sposato il progetto all'inizio anno quando magari molte persone sono andate via e quindi non credo sia giusto ora abbandonare la nave perché dobbiamo conquistare la salvezza il prima possibile e il termo deve farlo con per Rotta. Sicuramente sono molto forti, sono una squadra molto granizzata. Poi non ci dimentichiamo che sono secondi in classifica, quindi noi non guardiamo mai la classifica però sappiamo le squadre più forti come Pisa a spalle quindi sicuramente dobbiamo stare molto attenti perché è una squadra molto forte e molto organizzata. Però come dico sempre non è che dobbiamo andare lì a chiuderci perché non è la nostra mentalità. Noi dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo fatto queste due o tre partite scorse e andarcela a giocare. Poi sicuramente quello che succede in campo, molti episodi, spero ci andranno a favore e cercheremo di vincere la partita. All'Aquila ci ha attesa per la sentenza del calcio scommesse sulla società Rosso Blu. Pende una penalizzazione richiesta dalla Procura federale di 31 punti. Quindi intanto la testa è anche alla partita contro l'Arezzo. I Rosso Blu possono sorridere per i difensori Maccarone e Pesoli entrambi sulla via del recupero dagli infortuni muscolari che li hanno colpiti. Gianmarco Menga. Sospiro di sollievo in casa l'Aquila per il centrale difensivo Giordano Maccarone. Lo strappo muscolare che lo aveva messo fuori gioco due settimane fa si sta pian piano ricucendo. Il giocatore si trova a Catania per terapie specifiche che stanno dando i loro frutti. Dalla prossima settimana inizierà a svolgere sedute di lavoro in piscina, poi entro fine mese è atteso il rientro all'Aquila. Maccarone potrebbe così tornare a disposizione a tempo di record già per i primi giorni di febbraio. I Rosso Blu possono sorridere anche sul conto del neo arrivato Emanuele Pesoli. L'ex difensore del Pescara si sottoporrà domani mattina ad una visita di controllo per valutare se il problema muscolare al polpaccio sia superato. Se dovesse avere esito positivo, l'esperto difensore laziale potrebbe essere a disposizione del tecnico Carlo Perrone già dalla prossima settimana. Intanto sul fronte di mercato è tornato alla ribalta il nome del centrocampista classe 1995 Danilo Bulevardi del Pescara, vecchio pallino del direttore sportivo dell'Aquila Calcio Alessandro Battisti. Sul giocatore che cerca maggior spazio, volendo anche scendere di categoria in Lega Pro, c'è però anche il Catanzaro. È tutto per questa prima edizione del TG6. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il TG6 Abruzzo alle ore 19, invece fra poco alle 14.45 c'è il TG6 L'Aquila. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.